Un talento del karting a squillace, il giovane Salvatore Giglio tra i migliori piloti calabresi. Entusiasmo e passione per il motorsport in un hotel dell'Ametino per la cerimonia di premiazione dei migliori piloti calabresi. Tra gli applausi e la gioia dei presenti, uno dei protagonisti indiscussi è stato il giovane fenomeno Salvatore Giglio di soli 13 anni di squillace. Giglio è stato insegnato di ben due premi per il record di pista nella categoria OKNJ di karting, ottenuti in due circuiti calabresi. Un risultato straordinario che conferma il talento e la determinazione di questo giovane pilota capace di spingere al limite le proprie potenzialità e il proprio go-kart. Giglio è stato anche premiato come primo classificato nel campionato di zona 06 Calabria Basilicata nella categoria OKNJ, un successo che testimonia l'impegno costante e la dedizione che Giglio ha provuso in ogni gara, dimostrandosi sempre all'altezza delle aspettative. Un altro importante riconoscimento è stato premio speciale per i risultati ottenuti, avendo portato il nome della Calabria nel panorama internazionale del motorsport. Nei giorni scorsi, peraltro, Giglio si è trovato nuovamente in pista al circuito Amato, pista a due mari. Pur senza test preliminari, il giovane pilota ha dimostrato ancora una volta il suo valore, ottenendo risultati eccellenti che lo hanno portato alla pole position, al giro veloce e alla vittoria in entrambe le gare. Un dominio è incastrato con un margine elevato rispetto agli avversari. Durante la serata di premiazione, Giglio ha voluto ringraziare l'Academy for Winners e la Fidelity and Security per aver reso possibile tutto questo. Senza il supporto di queste istituzioni e il loro costante impegno nel sostenere i giovani talenti, non sarebbe stato possibile raggiungere traguardi così importanti. La serata si è conclusa fra ovazioni e festeggiamenti per Salvatore Giglio, il giovane pilota calabrese che dimostra di avere il talento e la determinazione necessaria per accelerare nel motorsport. La sua storia è un esempio di come la passione, l'impegno e il sostegno giusto possono trasformare i sogni in realtà, portando in alto il nome della Calabria nel mondo delle corse automobilistiche.